Quattro Un Un Passo la mano Svira Prendo la mano Un Un Quattro Caccio Un 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 Intanto piego Una funzione Svira Passo la mia gamba Sopra di me Bene Cerco di prendermi subito la mia gamba Spero qua Devo fare una Tanto efficienta però Tutto bene tutto Siamo? Provare Chi è Grazie 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 Grazie